E' stato proprio il capolista Rudy Benedicter a presentare i candidati di Proyect Bozen Noi Bolzano e che sosterà il candidato sindaco Luigi Spagnoli. L'occasione è stata perfetta per presentare gli obiettivi al motto di una città sempre più vivibile nel pieno rispetto dell'ambiente e della multiculturalità. Come Proyect Bozen Noi Bolzano da 20 anni siamo la coscienza verde di questa città. Siamo una lista civica, indipendente, ecologica, molto aperta, interetnica e multiculturale. E in questa forma finora abbiamo fatto buona esperienza con la politica prima di Salghetti, dopo di Spagnoli, in quanto abbiamo tenuto lo sviluppo della città in un solco ecologico e sostenibile. Spagnoli, il nostro patto con Gigi Spagnoli, ci dà la conferma che possiamo andare avanti così, anche se spesso ci sono anche delle discussioni sulla strategia. Spagnoli, il nostro patto con Gigi Spagnoli, ci dà il nostro patto con Gigi Spagnoli, ci dà il nostro patto con Gigi Spagnoli.